Grazie a tutti per questo team, questa squadra italiana da Milano, Anna Merlo e Fabiano Cicciiello da Roma! Anna, le sue prime esperienze, Fabiano ormai è la meriterana, dopo vai a assaggiare, non so, vediamo la vicinia, ci sono una pericuride, ci assaggi di via, ci assaggi, ci assaggi di via, ci assaggi di via, ci assaggi di via, ci assaggi di via, ci assaggi di via! Ok, ready! Eeeand go! Allora luce! Grazie. 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 Continua la musica. Compraite. Un buon applauso, Andrea Marello e Fabiana Ciccinello! Non è mai facile posizionare un auno così, ancora fortissimo! Un applauso a belle donne che già per la categoria più bella e anche la più difficile!